La prima parte è che io sono contento perché penso che la squadra ha cercato di giocare, sicuramente il primo tempo più ordinato che sul piano di gioco di costruzione, il secondo tempo specialmente il centrocampo ha perso dei riferimenti e l'abbiamo pagato, a parte che per me il primo gol su punizione non era punizione. Mister, buonasera Roberto Monforte di Radio Day, si aspettava dopo un primo tempo chiuso sul 3-0 una reazione così vehemente del Frosinone? Io me lo aspettavo perché Frosinone è la prima favorita del campionato, è normale che ha delle qualità, delle possibilità di giocare, ha giocato, ripeto, il primo tempo anche lì hanno preso tre pali magari sui tiri da fuori aria, però è sempre dimostrazione che ci sono, sempre ognuno la vede come vuole, a parte che ripeto per me siamo stati penalizzati molto perché la partita era giocata, i scontri ci sono stati, alla fine ho visto la statistica, 18 pali fischiati a noi e 6 a loro, penso che erano molto di più, allora anche questo può innervosire una squadra, specialmente se è giovane e non è abituato a certi trattamenti. Esattamente, è vero che penso che il primo gol nostro è sul fuorigioco, è vero che c'è la rigore a favore nostro, è vero che la punizione di Ciano non era punizione perché è intervento pulito. Sono tanti errori da una parte all'altra, poi tanti errori da una parte all'altra, però 18 pali fischiati a noi e 6 a loro, per me in una partita giocata anche sui contrasti, non corrisponde a quello che è successo sul campo.